prendo da qua, apro la base, ok? Quello che faccio è, questo si abbassa sempre come prima, ok? questa camera si apriva da qui, guardate che sta in situazione, lui sta in guardia, però non ci ha portato da di prima, io ho portato questa sola qua, diciamo che a livello del punteggio non cambia niente, però a livello del guardia si, perché vedi come io ho cambiato la simmetria generale della sua guardia, esatto, lui c'è qua, quindi io ho ragionato, diciamo, sfruttiamo questo shaker qua, se non riesco a togliere, perché lo porto qui, ok? Quindi faccio un passo e faccio un passo, da qua, apri il timono e entro in questa mano bruciata, ok? semplice, porto il pugno a terra, appena ho portato il pugno a terra, ritorno, come porto la scena sola, va ricordate, è la stessa tecnica, ma noi abbiamo preso una soluzione che non si aspetta, c'è la sopra e poi l'attualizzata, ok? eh? ne andiamo un po' allora, prendi attimo quel bagno di castagno, ok? allora qui, ok? perché tu si aspetta che io abbia questa di base, questa sopra, eh? eh, eh, lui è lì, esatto, invece da qua io appasco, sempre portando davanti a lui, apri il stagno, vedi? ho bloccato il suo movimento, adesso apro il timono, non faccio, perché lui poi se mi ferma, se vado così lui mi ferma qua, eh? invece da qua cosa faccio? Io apro il timono, entro, boom, ok? bene, ritorno con la camera, ascellatura, vedi strano, ok? molto, molto, esattamente, però io lo facciamo da quest'altra situazione strana, ok? è iniziare a disposizione del volto di pochi l'alistenIA